Questa sera voglio provare le capacità della camera termica del nuovo drone Evo Light 640T caratterizzato da un basso prezzo e dalla marcatura di classe C1 che permette di utilizzarlo anche in scenari urbani ovviamente rispettando le zone geografiche US con le regole A1 che sono agevolanti per quanto riguarda le persone non informate. In questo volo notturno voglio provare a verificare le capacità della camera termica nell'ambito di ricerca persone, individuazione di persone ed eventualmente di animali. Il tutto però in un ambito abitato. Prima di decollare vediamo assieme alcuni dettagli. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Visto che questo drone potrebbe essere usato nelle emergenze se la mia prova darà esito positivo per quanto riguarda la camera termica, l'efficacia di individuare persone e animali o meglio non tanto il mio esito ma il parere di chi utilizza il drone in ambiti emergenziali e vedendo questa prova riterrà il drone idoneo a queste operazioni. Tra l'altro durante questo tempo il drone acceso aggancerà i satelliti gps e quindi sarà pronto per operare anche di notte soprattutto visto che il vps di notte non funziona. 28 secondi un tempo medio direi. Visto che si vola di notte è interessante sapere che c'è questa possibilità ovvero spegnere le luci quando è in registrazione video ma spegnerà tutte le luci o soltanto le luci anteriori. Proviamo subito con questa funzione disattivata quindi vediamo se registrazione dovrebbe tenere tutte le luci accese perché non l'ho attivata e infatti tiene tutte le luci accese. Vi ricordo che per regolamento ci deve essere almeno una luce verde lampeggiante quando si vola di notte cosa che non vale però per le forze dell'ordine perché hanno un loro regolamento. Adesso ho attivato la funzione e vediamo che spegne tutte le luci quindi quando attiviamo questa funzionalità il drone diventa invisibile di notte ma soltanto se sta registrando video. Quando non registra video le luci restano sempre accese indipendentemente da questa funzione. Facciamo un breve confronto sulla camera termica per Evolight 640T e il Mavic 3T che costa a parità di allestimento circa 2000 euro in più. Possiamo notare che la camera termica è praticamente la stessa a parte l'accuratezza radiometrica che è migliore sul Mavic 3 Thermal. Tuttavia l'accuratezza radiometrica serve per ottenere il miglior risultato per quanto riguarda la misura della temperatura. Quindi nell'ambito delle analisi termografiche, nella ricerca e soccorso, nella sorveglianza non serve sapere con precisione qual è la temperatura di un corpo, di un oggetto, di un'infrastruttura. Serve individuarla e per individuarla è importante la sensibilità termica e come vediamo è inferiore a 50 mK per entrambi i droni. Comunque per quanto riguarda le differenze sull'analisi termografica ne parlerò a fine video. Su un drone poi è importante il FOV della camera termica e vediamo che entrambi hanno un FOV di 61 gradi. Ma basta chiacchiere è giunto il momento di provarlo in volo. Quindi si decolla, vedete ha acceso la luce verticale, automatica, adesso l'ha spenta ma vedete che stabilità anche col buio mantiene la posizione grazie al sistema satellitare che ha agganciato in questo momento 24-25 satelliti. Come abbiamo visto c'è la possibilità di affiancare l'immagine sul visibile. In questo momento la linko ha lo stesso ingrandimento della camera termica. Quindi quando ingrandisco una si ingrandisce automaticamente anche l'altra ma è possibile anche sganciarle. Sto usando la palette iron, non ho sintonizzato la temperatura quindi a temperatura in automatico la sintonizzazione prende tutto il range da meno 20 a 150 gradi. Guardate che differenza tra la camera sul visibile e la termica. Vedete la parte buia sul visibile è perfettamente visibile con la camera termica. E lo si vede anche qua. Vedete tutta la parte buia, guardate cosa c'è nella parte buia. Cosa che con la camera sul visibile ovviamente non si riesce a vedere. Vediamo anche che ci sono dei punti caldi su questa che sembra essere una serra. Evidentemente queste sono le porte che fanno uscire il calore interno all'esterno e quindi viene rilevato. Vediamo se individuiamo qualche persona. Eccone una lassù che si sta muovendo. Sembra una persona. Si sta muovendo quindi è una persona. Eccola qua. Vedete? Quindi si riesce a individuare a questa distanza anche se ingrandendo ovviamente lo zoom digitale di una camera termica 640 degrada. Però avete visto si può vedere che il punto caldo della persona si distingue anche se intorno ci sono comunque altri punti caldi. E ora guardiamo qua. C'è un punto caldo che si sta muovendo. Sono a circa 300 metri di distanza da questo punto caldo. Quindi evidentemente è una persona che sta camminando. Ecco un drone con le regole C1 ci permette anche di fare questo tipo di voli. Perché non ci sono distanze minime da mantenere rispetto alle persone non informate. Mentre invece ad esempio un C2 deve mantenere la regola 1 1. Altezza uguale a distanza dalle persone non informate. E allora vediamo se sul visibile si vede qualcosa. Ma come possiamo notare non si vede la persona sta attraversando una zona buia e la vediamo soltanto con la camera termica. Ecco che adesso si vede anche con la camera sul visibile ma è molto difficile distinguerla da lontano. Invece con la camera termica come abbiamo visto si è subito visto il punto caldo. Certamente bisogna vedere e guardare bene l'immagine termica interpretarla bene. Non è una cosa semplice richiede esperienza e addestramento. Adesso vediamo che c'è anche un'altra persona che si sta muovendo. Mentre sul visibile assolutamente non si nota nulla. Riproviamo anche sul visibile. Facciamo uno zoom e vedete non si vede assolutamente niente se non qualche piccola ombra che si muove saltuariamente. Ecco forse adesso abbiamo visto una lucetta sul visibile perché probabilmente era lo smartphone che stavo utilizzando però c'è una grande differenza. Vedete che capacità a questa termocamera. Vediamo quest'altro caso. Qualcuno dirai ma se sai dove cercare e dove guardare faccia individuare i target. Vero. Però come potete vedere se si muove è individuabile facilmente anche se non si sa dove guardare. Questo probabilmente è un animale. Avete visto che se è mosso si sta muovendo. E questo ad esempio è un gatto. Mentre a sinistra ci sono io. Quel puntino bianco piccolino è un gatto. Completamente al buio. Mentre sto facendo l'atterraggio automatico. E pertanto vedete che si è appena allungato il gatto. E quindi ha una buona capacità di rilevare anche gli animali. Ovviamente come ho detto serve un operatore che abbia esperienza e sape utilizzare una termocamera. velocità. Ed eccolo che atterra attivando automaticamente la luce verticale. E dopo 18 minuti di volo batteria al 42%. Quindi abbiamo ancora 15 minuti di autonomia secondo il calcolo automatico. Segnale radio forte per tutto il volo. Adesso da errore compass perché ha atterrato su una soletta dove sotto c'è del ferro. E quindi la bussola rileva questa interferenza magnetica. Invece per le analisi termografiche c'è ancora da lavorare. Magari con aggiornamento firme speriamo. Perché sì che la camera è radiometrica però si può cambiare soltanto l'emissività. Non si possono cambiare altri valori come temperatura riflessa. Temperatura dell'aria. Distanza e altri parametri importanti per le analisi termografiche. Però per un'analisi visiva anche della dispersione di un edificio senza dover fare per forza un'analisi termografica per individuare le criticità diciamo così ad occhio è funzionale. Perché vedete che definizione ha. Tra l'altro si può anche variare il contrasto e la luminosità di una palette per farla risaltare meglio rispetto a quello che si sta cercando. Tuttavia come detto per l'analisi termografica per una vera analisi termografica ammesso che il Mavic 3 sia uno strumento adatto perché anche il Mavic 3 non è proprio adattissimo per fare un'analisi termografica allo stato dell'arte è meglio il Mavic 3. Questo perché anche se l'Evolite che stiamo vedendo scatta anche le immagini termografiche quindi con i dati della temperatura il software che Outer mette a disposizione per Evolite 640t Enterprise è veramente basico non permette di fare un vero termogramma permette di misurare la temperatura nei vari punti ma non di fare un vero report. Quindi al momento Evolite 640t è veramente indicato per fare ricerca soccorso, ricerca di persone, ricerca di animali dispersi, situazioni emergenziali, rilevamenti di anomalie in edifici, ricerca incendi, tutte quelle cose che si possono fare diciamo così ad occhio come ad esempio ricerca di celle rotte nei pannelli solari, punti caldi nei cavi e via dicendo ma non sicuramente per produrre dei termogrammi precisi a livello di temperatura perché come ho detto mancano le opzioni di configurazione per fare queste cose e comunque va considerato il suo prezzo perché il prezzo sotto i 4000 euro per la combo è una cosa mai vista per un drone dotato di camera da 640 e marcatura c1. Nel complesso è un ottimo drone anche come qualità di volo non ci sono problemi mi aspetta però un aggiornamento firme per migliorare alcuni aspetti come appunto l'analisi termografica a permettere di variare anche questi parametri un migliore tool di analisi ma poi anche qualche piccola risoluzione di qualche piccola mancanza anche se è molto completo già adesso come drone peccato che manca un'uscita hdmi vedrò di trovare modo di esportare il video in real time per abbinare al radiocomando un monitor esterno detto questo vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto vi do appuntamento con il prossimo video su quattro news buona continuazione a tutti